Che cos'è l'occlusione equilibrata? Nessuno, quasi mai, qualcuno parla di occlusione equilibrata, è raro sentirne parlare, ma è quel tipo di occlusione appunto che garantisce, diciamo, una libertà di movimento della mandibola nelle lateralità mandibolari stesse. E chiaramente per poter capire come ottenere questo tipo di occlusione equilibrata che è alla base della salute, diciamo, della bocca, è importante, diciamo, capire in primo luogo come si costruisce per esempio una protesi totale, comprendere anche quelli che sono le leggi di Anahu, saper montare l'arco facciale e trasferire il tutto in articolatore, saper fare una buona esplorazione funzionale sui pazienti e saper fare anche un buon molaggio selettivo in detenzione permanente. Ma andiamo con ordine. In una protesi mobile totale, dove appunto il paziente non ha più denti, noi possiamo ottenere, diciamo, questa occlusione equilibrata, soprattutto se i denti vengono montati nel modo corretto. L'occlusione equilibrata, secondo Gisi, è un'occlusione bilanciata e bilaterale, che garantisce un contatto dentale uniforme. Nei nostri pazienti raramente è possibile riscontrarla, perché appunto è un equilibrio difficile da raggiungere, la si ritrova soprattutto nelle bocche non civilizzate, se vogliamo, ed è caratterizzata da una mandibola quadrata che permette di modellare correttamente ad ogni colpo di masticazione l'arcata superiore. E chiaramente i mezzi per poter raggiungere questa occlusione equilibrata sono appunto rappresentati dai fattori, dalle leggi di Anau, vale a dire la traiettoria condilare, il piano clusale, l'altezza delle cuspidi, le curve di compenso, in particolar modo la curva di spi, e le traiettorie incisali, vale a dire l'overjet e l'overbite. Anau era praticamente un ingegnere, se andate a fare delle ricerche sulle leggi di Anau non capirete nulla probabilmente, nel senso che dovrete stare molto tempo a studiarle per poterle capire perché sono molto complesse. Io in questo video cercherò infatti di semplificarvi il tutto all'osso. Anau quello che cercò di fare fu appunto quello di ottenere una formula matematica per ottenere diciamo l'occlusione equilibrata, come per esempio la velocità. Sappiamo che la velocità è data dal rapporto tra lo spazio e il tempo, solo che la velocità ovviamente è più semplice perché è una relazione diretta. L'occlusione rispetto alla velocità è un qualcosa di molto più complesso, quindi per Anau studiare una formula e capire quali fossero i fattori che garantissero un'occlusione equilibrata è stato difficile per lui, però alla fine diciamo ci è riuscito. Andremo quindi in questo video a vedere quali sono le leggi di Anau che ci permettono di ottenere un'occlusione equilibrata e quindi anche di realizzare una buona protesi mobile totale. Per quanto riguarda la prima legge di Anau prende appunto in considerazione il fattore 1 che è la traiettoria condilare e il fattore 2 che è la situazione del piano occlusale. Vale a dire che ogni traiettoria condilare ha il suo piano occlusale e questo permette di raggiungere appunto l'occlusione equilibrata. Se ho per esempio delle traiettorie condilari molto ripide il piano occlusale di conseguenza dovrà essere più ripido, quindi è importante capire qual è l'inclinazione dei condili, la traiettoria che compiono anche i condili durante i movimenti della mandibola. Poi c'è la seconda legge di Anau che prende in considerazione il fattore 3, cioè l'altezza delle cuspidi, e il fattore 4, cioè la curva di decollo, cioè la curva di spi. In base all'altezza delle cuspidi si valuta quella che è la curva di decollo. Se per esempio le cuspidi sono piatte la curva di compenso di conseguenza sarà piatta. Se le cuspidi sono più appuntite ovviamente la curva di compenso avrà appunto una maggiore curvatura. La terza legge di Anau prende in considerazione il fattore 5, cioè la traiettoria incisale, vale a dire l'overjet e l'overbite, il fattore 1, cioè la traiettoria condilare, e il fattore 3, cioè l'altezza delle cuspidi. Il percorso quindi della traiettoria condilare deve corrispondere all'altezza delle cuspidi e all'overjet e all'overbite, cioè tutti i vari fattori di Anau devono essere appunto messi assieme per realizzare una buona protesi totale. E quindi dalla traiettoria condilare noi dobbiamo modellare il piano clusale e di qui poi andremo a dare la corretta altezza alle cuspidi e di qui poi andremo a dare il corretto overjet e il corretto overbite. Questo per ottenere appunto quello che è un piano clusale fisiologico, cioè mettere i denti correttamente a livello del piano clusale, e quindi se il disequilibrio del paziente è grave, molto spesso, non è possibile fare il molaggio selettivo se il piano clusale è appunto alterato, perché il molaggio selettivo lavora diciamo sulle traiettorie incisali e sull'altezza delle cuspidi, però se il problema è nel piano clusale il molaggio non è sufficiente perché appunto è un problema più profondo. È stato visto comunque che nelle mandibole non civilizzate, che sono appunto delle mandibole quadrate riscontrate anche nei fossili ma anche negli attuali popoli avorigeni, c'è appunto la cosiddetta mandibola quadrata, ma attualmente le mandibole si fanno tonde con gli archi preformati dell'ortodossia, perché si pensa soltanto a un discorso di apertura e di chiusura della bocca senza prendere in considerazione i movimenti di lateralità, che sono quelli che poi d'altronde andiamo ad utilizzare durante la masticazione. Per ottenere quello che è l'equilibrio clusale si utilizzano le piste di Patterson, che praticamente nel soggetto edentulo durante i movimenti di lateralità queste piste, come vedete appunto in questa foto, vengono ad essere modellate. Questo tipo di piste di Patterson vengono realizzate con del gesso di Parigi assieme alla polvere di smeriglio e quindi abbiamo il 50% di polvere e il 50% di gesso, ma si può anche usare la pasta termoplastica. Ma le piste di Patterson permettono di regolare il piano clusale sulla base di quelle che sono appunto le traiettorie condilari, si ottiene quindi un piano occlusale elicoidale. Anche quando per esempio si funzionalizza una protesi, per esempio, e si sta sistemando il piano occlusale del paziente, lo si sta facendo appunto sulla base di quelle che sono le sue traiettorie condilari. Per poter però capire meglio tutto questo concetto dobbiamo un attimino fare un piccolo passo indietro e capire come avviene la formazione del piano occlusale. Il piano occlusale comincia a formarsi sin dai primi giorni di vita attraverso l'allattamento al seno, perché questo, come ho spiegato già in altri video e quali ti rimando, permette praticamente di far sviluppare correttamente i mascellari e di correggere quella fisiologica seconda classe che abbiamo al momento della nascita, quindi di correggere la cosiddetta distoclusione. In poche parole, a tre anni non deve più esserci distoclusione, perché appunto il soggetto deve essere stato allattato al seno e non al biberon. Poi il piano occlusale si forma anche attraverso la masticazione dei cibi duri, cioè tra virgolette il paziente in questo caso fa quelle che sono le sue piste di Patterson e queste permettono ovviamente, diciamo la masticazione dei cibi duri, permette ovviamente lo sviluppo congruo di quello che è l'osso basale, permette anche di formare gli astemi in dentizione da latte, che non sono patologici perché indichano che ci sarà spazio per la dentizione permanente. Quindi in altre parole la funzione masticatoria va a modellare il piano occlusale e permette di avere appunto una bocca in equilibrio e in salute per tutta la vita. Diversi studi hanno visto infatti che quei soggetti che masticano solo da un lato, dal lato non masticante praticamente ci sarà meno saliva, passerà meno saliva perché si masticherà ovviamente di meno e di conseguenza ci sarà più ristagno di tartaro e quindi ci sarà meno sensibilità gustativa addirittura. Diverse critiche però sono state mosse nei confronti delle piste di Patterson, un problema classicamente italiano se vogliamo, cioè molti italiani dicono come può un organo disfunzionale guidare nella registrazione delle traiettorie condilari per mezzo appunto delle piste di Patterson? Beh c'è una risposta a questa domanda, a questo dubbio, a questa critica che molto spesso viene sollevata nei confronti delle piste di Patterson. In realtà infatti l'unica cosa che può esserci è la simmetria, ma in tal caso la simmetria che si riscontra sul paziente non è una patologia, bensì è una sua caratteristica anatomica. Di per sé il corpo umano sappiamo non è simmetrico, non abbiamo appunto due cuori per esempio. Quello che si fa con le piste di Patterson è adattare quella protesi al movimento articolare del paziente, perché quel soggetto d'altronde è arrivato ad una condizione di dentizione terminale, perché ha masticato in modo scorretto per tutta la sua vita e quindi si è disequilibrato per un arco di tempo prolungato e quindi noi in questo caso con le piste di Patterson cerchiamo appunto di ottenere un buon equilibrio e una buona salute della bocca per creare una protesi che non sia soltanto estetica ma che permetta anche al paziente di masticare. Quindi la riabilitazione neuroclusale considera l'equilibrio statico ma anche dinamico dell'apparato stomato e per questo motivo le piste di Patterson sono uno strumento fondamentale in questo contesto sia per le protesi mobili che anche per le protesi fisse. Infatti lo scopo delle piste di Patterson è di recuperare la masticazione dal lato non masticante, rispettare lo spazio libero articolare e infatti il paziente diciamo se si utilizza le piste di Patterson dopo un po' di tempo comincerà a percepire una comodità nei movimenti della mandibola, rispettare anche la fisiologia del sistema stomatognatico e ottenere una masticazione corretta e una maturazione corretta del piano occlusale artificiale in questo caso. Difatti non è che si mastica male perché si hanno i denti storti ma si hanno i denti storti perché si mastica male. I denti storti non sono il frutto della genetica ma sono il frutto della funzione e la funzione che crea l'organo e se la funzione è alterata l'organo di conseguenza sarà alterato. Alle volte anche se il soggetto ha i denti dritti può anche comunque sia masticare male. E' importante quindi ottenere con ogni tipo di protesi degli angoli funzionali masticatori corretti.